Rieccoci amiche, per la festa di San Valentino abbiamo pensato di preparare dei biscotti per la prima colazione del vostro partner. Per realizzare questi biscotti abbiamo bisogno di 250 g di farina, 125 g di zucchero semolato, una bustina di vanillina, un uovo, 6 g di lievito per dolci, una scorza di limone grattugiato, 125 g di burro. Per la farcitura dei biscotti useremo la marmellata alle fragole. Allora cominciamo subito, versiamo la farina sul piano di lavoro, formiamo una fontanella così. Poi versiamo la dosi, una, la dosi della vanillina, il lievito per dolci. Un uovo, la scorza di limone, il burro amorbidito naturalmente. schiacciamolo con i palpastrelli. Pian piano cerchiamo di unire gli ingredienti. ecco pronta la palla. che metteremo nella pellicola perché ha bisogno di riposare. per una mezz'oretta. per una mezz'oretta. una mezz'ora e frigo. in salto. proseguiamo con le mie amiche. il tempo necessario per far riposare l'impasto. Cerchiamo di coprire un po' il piano di lavoro con un po' di farina. in modo tale che non si attacca, o andiamo a stendere e a formare. stenderemo la pasta di uno spessore di mezzo centimetro. così. Le forme saranno di pari numero. e abbiamo creato i biscotti a forma di cuore che poi andremo a mettere nella teglia. naturalmente saranno di pari numero. vale a dire di pari numero. cioè faremo cuori pieni. così. e poi andremo a fare i cuori. un cerchietto al centro. ecco qua. i tre. così. certo che se poi la forma si rovina un po', noi con le mani possiamo. adesso facciamo un'altra fila. potremmo il numero dei pezzi, non ve lo sappiamo proprio indicare. quando finisce l'impasto. dopo di che informiamo i nostri biscotti a 180 gradi. la cottura, comunque la dovete seguire perché i biscotti non si devono colorare molto, devono essere chiari. ecco qua. vediamo i nostri biscotti. ecco. sono pronti. colorati. come avevo detto, la cottura è all'occhio. cioè a coloro essere dorati e non molto colorati. cominciamo a prendere il primo cuoricino. cominciamo a prendere il primo cuoricino. questa è la nostra armillata di fragole. cominciamo a prendere il primo cuoricino. fai girare. bene così. facciamo un altro. Ora abbiamo terminato la farcettura, ora con lo zucchero al velo Carissime amiche, non è stato molto semplice Però ce l'ho messa tutta e speriamo che voi riuscite come me Ci vediamo la prossima volta Non, 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 non. Non, 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 non. Ciao! Grazie per la visione